Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Master of the Galaxy, un Kickstarter che ha avuto un discreto successo e intanto colgo l'occasione per ringraziare, gioco ovviamente dell'Ares Games, colgo l'occasione per ringraziare l'Ares che ci ha fornito una copia omaggio per la recensione. Quindi ragazzi, grazie di cuore, soprattutto facciamo gli auguri per questo inizio della nostra collaborazione. Spero che possa durare e come vi ho scritto anche per mail, è veramente un orgoglio e un onore per me poter collaborare con voi. Quindi grazie veramente di cuore. Master of the Galaxy di cosa tratta? È un gioco 4x, come vengono nominati di solito Twilight Imperium e anche tanti giochi che abbiamo visto nel corso della storia videoludica su PC e su console. È un gioco di strategia dove in una mappa di una galassia si deve andare a posizionare basi, flotte e darsi battaglia per conquistare appunto più pianeti possibili, calcolare i punti e avere la vittoria. E questo è un gioco che va da 1 a 4 giocatori, durata media io penso un gioco del genere si possa andare 50 minuti, un'oretta al massimo, dai 13 anni in su. Le regole sono poche, sono semplici, è un gioco bellino perché si basa tutto quanto sull'accumulo di risorse nella prima fase del gioco e sulla spesa di risorse nella seconda fase mettendo anche basi, avamposti e cose del genere per poi arrivare alla fase finale dove si giocano le carte e si dà battaglia agli altri esercii insomma via alle altre fazioni perché questo è un gioco ovviamente PvP, non è un gioco collaborativo. Questa è la versione come molti l'hanno definita e io dopo averlo giocato appunto vi posso dire che è vero, le voci erano fondatissime. È la versione light tra molte virgolette di Twilight Imperium. Quindi per tutti gli amanti dei giochi 4x, delle battaglie spaziali ma soprattutto della conquista dei territori, delle galassie, dei pianeti, dei sistemi e quant'altro che hanno voglia di provare qualcosa del genere 4x ma magari Twilight Imperium che è un capolavoro di gioco, spero anche quello di recensirlo un giorno però magari è troppo pesante, ci vuole troppo tempo, c'è troppa roba, serve un tavolo troppo grande secondo me Master of the Galaxy è davvero il gioco che fa per voi. Unboxing, confezione del gioco, molto bellina che rimanda anche un pochino ai disegni che ci sono sopra, Mass Effect insomma la fantascienza ragazzi potrebbe rimandare praticamente a quasi qualsiasi ambientazione anche a Farscape ad esempio, spaziale ed è molto bellina la scatola, è abbastanza contenuta come dimensioni, il peso è molto leggera e ricordo che questo è un gioco dell'Ares. Apriamo. Regolamento di gioco, ah mi sono dimenticato di dirvi che per ora una versione italiana non esiste c'è soltanto la versione inglese appunto dell'Ares ma è di facilissima comprensione e il regolamento pieno zeppo di figure, riferimenti e quant'altro è veramente molto semplice, fatto bene a striscetta lunga come abbiamo visto anche per Monster Slaughter. Catalogo 2017-2018 dell'Ares Games schede ripelogative, 4, una per ciascun giocatore che ci fanno presente come si vince la partita e come si guadagnano risorse token vari, che poi alla fin fine sono veramente pochi e sotto tabellone di gioco belline da morire, sacchettini di 4 colori dove dentro ci dovete andare a mettere le risorse del gioco per pescarle, molto 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 bellini sacchettini con elementi 3D che queste qui sono tutte le basi per ciascun colore, quindi le 4 fazioni di gioco per conquistare i pianeti, i sistemi e quant'altro risorse nei vari colori che sono giallo, blu, rosso e nero e mazzo delle varie carte di gioco tabellone di gioco vedete questa galassia ed è divisa in sistemi sistemi di vari colori le rotte che bisogna seguire per spostarsi da un sistema all'altro i sistemi di conquista per guadagnare punti, vittoria e vincere la partita ma ve le spiegherò meglio dopo qua giù invece in viola vedete in 3D, ora le abbiamo buttate così sul tabellone ma andrebbero messe ovviamente dalla parte dei giocatori viola comunque le 9 basi ciascun giocatore dovrà avere 9 basi da posizionare spostandoci di qua ci sono le carte conflitto per darsi battaglia le carte specie le carte leader e le carte governo queste carte non dovranno essere pescate durante il turno dei giocatori il normale turno ma queste carte qui si guadagneranno in alcuni modi che vi farò vedere poi successivamente e qui accanto le carte commercio le carte progresso e le carte espansione queste carte qui servono praticamente sono tutti quanti i progetti e l'espansione del vostro impero quindi saranno carte che andrete a sbloccare per poi potenziare ad avere dei bonus in gioco segnalini buco nero che poi vi faccio vedere a cosa servono a livello di partita tabellone segnapunti quindi ogni volta che andrete a guadagnare un punto nei vari settori che vedete sono il conflitto e quant'altro anche semplicemente nel commercio in fondo ci andrete a mettere un token del vostro colore in questo caso il giocatore viola il primo giocatore che arriva a 5 su uno dei vari livelli ha vinto la partita perché la partita si vince o posizionando tutte e 9 le basi che avete visto o arrivando al livello 5 di uno di questi rami che ci sono qui oppure conquistando un sistema di partenza uno dei 4 che praticamente sono questi qua giù agli angoli del gioco se un giocatore riesce a conquistarne uno facendo rotte e tutto quanto lo invade, lo conquista e diventa suo avrà vinto automaticamente la partita cubettini risorsa giallo rosso scusate prima mi ero dimenticato il bianco blu e quelli neri queste risorse all'inizio un giocatore dovrà nel suo sacchettino quindi nel caso del giocatore viola dovrà prendere 5 cubetti di ciascun colore di partenza quindi 5 gialli, 5 rossi e così via anche ovviamente i 5 neri prenderli e buttarli dentro il sacchettino e il sacchettino shakerarlo perché all'inizio di ogni turno dovrà andare a pescare 3 cubettini dentro al suo sacchetto e non saprà mai quello che va a pescare serviranno per i progetti e ora vi faccio vedere quindi ne pesco 5 per tipo ora vi faccio vedere tipo non so i primi 5 gialli e li butto nel sacchettino andiamo avanti ecco il sacchettino dove dentro ci sono 25 cubettini colorati quindi 5 per ogni colore sono qui dentro e ci dovete pescare carta del leader e vedete che ciascun leader ci ha segnato un simbolo che questo qui va a identificarlo come tipo leader di guerra o cose del genere quindi molto più votato al combattimento avranno sempre delle abilità che vedete in questo caso quando c'è un simbolino un omino con il cappello vuol dire che potrete rubare una risorsa di questo colore in questo caso bianco a qualsiasi altro giocatore quindi completando questo tracciato prenderete questa risorsa qua giù e poi un'abilità speciale che in questo caso se non erro dice che scartando una carta avrà dei benefici all'inizio del turno ciascuno dei 4 giocatori pesca un leader a caso dal mazzo blu che vi ho fatto vedere e se lo mette dalla sua parte di tavolo come vedete ora qui ho messo le basi ho messo le 9 basi non devono stare sul tabellone ragazzi se no farebbero casino mettetele sempre dalla vostra parte del tavolo i sistemi di partenza li riconoscete sempre per il fatto che hanno una stellina quindi sono 4 ai 4 angoli ovviamente non tutti quanti i sistemi hanno lo stesso numero di pianeti ci sono sistemi ad esempio che hanno 2 pianeti un altro sistema che ne ha 2 e sistemi invece che ne hanno uno soltanto come vi ho detto precedentemente voi all'inizio dovete farvi un sacchetto con 25 cubettini colorati e il gioco si divide in 3 fasi la prima fase è quella di raccolta risorse la seconda fase invece è quella di utilizzare e spendere le risorse che avete preso nella fase 1 la terza e ultima fase è quella di giocare alle carte quindi di alzi battaglie e quant'altro all'inizio quando è il vostro turno di pescare mattoncini voi li andate a pescare direttamente dal vostro sacchettino quindi lo shakerate per bene mettete la mano dentro senza guardare perché non dovete mai sapere cosa date a pescare e pescate 3 cubettini quindi 3 per ciascun giocatore in questo caso me ne sono venuti fuori 2 rossi e 1 bianco a questo punto qui queste sono le vostre risorse di partenza e le vostre risorse adesso che avete fatto la fase di pescaggio le dovete andare a distribuire ovviamente il gioco parte lento perché con 3 risorse posso fare poco o nulla però qualcosa io posso già iniziarle a pensare e vi faccio vedere un esempio ricordiamoci che quello laggiù in fondo questo giallo è il mio settore di partenza quindi del giocatore viola vedete che parto da un sistema giallo e voglio andare a conquistare un sistema bianco vi ricordo che la partita si vince anche posizionando tutte e 9 le basi che vedete come si traccia una rotta vedete per arrivare da questo sistema a quest'altro ci sono 3 quadrettini io in questi 3 quadrettini devo scegliere il tipo di colore che ci andrò a mettere che sia della stella di partenza o della stella di arrivo quindi del sistema di partenza o di quello di arrivo se sceglierò il sistema di partenza come colore che è giallo dovrò mettere 3 cubetti gialli se sceglierò quello bianco dovrò mettere 3 cubetti bianchi sia chiaro partano sempre però da dove voi vi trovate attualmente quindi noi essendo qui lo sappiamo l'ultimo movimento che abbiamo fatto è questo l'ultimo collegato dovremo sempre partire dal sistema di partenza non è che potete metterli alla rovescia io non avendo cubetti gialli perché non ce n'ho avete visto inizialmente ne ho pescati 2 e 1 dalla mia prima mano potrei dire va bene io allora il primo voglio che sia un tracciato bianco e metto il mio primo cubettino bianco e il mio primo la mia prima risorsa è stata posizionata e questo è un tipo di azione che posso fare per arrivare fino a un fondo ora io cubettini li vado a prendere dalla riserva generale per farvi un esempio nei turni successivi quando io arriverò a mettere 3 cubettini bianchi qui vorrà dire che avrò tracciato la rotta ok e quindi ora posso andare a conquistare questo sistema qui che questo sistema è un sistema neutrale cosa vuol dire neutrale che non c'è ancora nessun altro giocatore che l'ha conquistato perché vedete non ci sono basi di altri colori di altre fazioni quando arriverò qua giù io potrò intanto spendere anche lì a sua volta cubettini e ora vi dico come potrò spendere cubettini dello stesso colore del sistema quindi questo è un sistema bianco per conquistare il sistema ok quindi ho preso possesso del sistema e volendone potrò spendere un altro per prendere possesso del pianeta se mettete cubettini di conquista dello stesso colore del sistema prenderete automaticamente a fine del turno quando si va a fare i conteggi prenderete automaticamente tre cubetti dello stesso colore quindi se io metto questo di conquista qui quando sarà la fase di fine turno dopo che tutti i giocatori l'hanno mosso che si va a vedere quello che è stato fatto e le risorse che vanno prese io automaticamente dalla riserva comune prenderò tre cubettini bianchi se vado a prenderne due ok ne andrò a mettere invece sei perché vi ricordo per ogni cubettino che avete posizionato dello stesso colore del sistema appena conquistato prenderete tre cubetti posso anche conquistare con cubetti di altro colore io potrei dire vabbè non ce l'ho un bianco però mi serve di conquistarlo comunque ci metto un cubettino rosso non essendo dello stesso colore ne prenderò due del colore del cubettino che ci ho messo quindi in questo caso due rossi quindi stesso colore tre colore differente rispetto al sistema due e questo serve per conquistare i sistemi poi ovviamente stessa cosa i cubettini si possono mettere anche sulle carte mettiamo caso io avessi un cubettino bianco lo metto qui sulla carta e i cubettini neri sono particolari perché come avete visto all'inizio sono meno sono meno perché se ne usa molti meno per attivare l'abilità ad esempio se avessi due cubetti neri le metterei qui accanto al bianco e potrei attivare questa abilità che mi dice ruba una risorsa bianca a un qualsiasi altro giocatore non a contatto non in conflitto chiunque oppure i cubetti neri possono essere utilizzati per riprendere in mano cubetti di qualsiasi altro colore che abbiamo posizionato ad esempio se io ho messo un cubetto bianco qui e poi ne ho messo un altro nero qui ma non voglio più attivare questa abilità perché magari ho altre carte in mano questa abilità qui non la voglio più attivare non mi interessa non posso semplicemente riprendere i cubetti non lo posso fare l'unica cosa è che prendo un cubetto nero pescato ovviamente che ho già a mano pescato nel mio sacchettino prendo un cubetto nero e dico questo non lo posiziono questo lo uso per azzerare questa scheda qui per togliere tutti i cubetti quindi li levo e li vado a rimettere dentro al sacchettino che poi dopo vado a riscecherare quindi prendo li ributto dentro e li riscecherò va di differenza una carta come invece questa quando hanno un più al centro del cubettino vuol dire che tutti i cubettini le risorse di quel colore con un più al centro una volta che sarà usato il cubettino nero per rimuoverli non andranno quelli col segnalino non vanno nel vostro sacchetto ma tornano nella riserva comune quindi l'avete persi e dovete poi andarle a ripescare nel tempo questa è l'unica regola quando c'è un più non vanno nel sacchettino ma tornano nella riserva stessa cosa per le rotte una volta che ho messo i cubettini delle rotte rimangano lì non è che li posso muovere però allo stesso modo posso dire ok uso un cubettino nero e me li riprendo tutti quanti quindi questi qui li riprendo di solito comunque ricordatevi sempre che sulle carte quando c'è il simbolino con queste frecce accanto alla verità vuol dire che una volta che i cubetti saranno spesi li potrete riprendere cambia ad esempio l'effetto prendendo una carta come quella che vi ho fatto vedere prima che ve la rimetto accanto non ci sono freccette quindi questa è una carta persistente cosa vuol dire che io se metto un cubetto rosso sulla carta uno giallo e uno nero per attivare l'abilità che c'è scritta sotto e per prendere anche come vedete un punto conflitto io se voglio continuare a mantenere il bonus di questa carta qui dovrò sempre averci i cubetti sopra se io riusassi un altro cubetto nero perché le risorse che sono qui mi servono e togliessi tutto perderei intanto il punto conquista e devo retrocedere sul tracciato e non potrei più utilizzare questa carta il limite massimo di carte che ha qui si gioca a carte scoperte non si tengono in mano le carte che avete le dovete sempre mettere sulla vostra parte del campo che tutti devono poter vedere non è un gioco di misteri è un gioco di battaglie e conquiste quindi il tuo avversario deve sempre sapere qual è la tua forza la tua debolezza e o in cosa sei bravo potete sempre solo tenere sette carte sul campo di qualsiasi tipo quindi se ci avete due leader contano come due e potete mettere altre cinque carte di qualsiasi altro tipo a fine del turno se avete sette carte e qualcuna non vi piace potete ovviamente scartare queste carte scartare una carta vi permette di prendere risorse tanto come c'è scritto nelle regole e posizionare carte nuove perché non potete mai 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 avere più di sette carte sia in mano che sul campo che poi la mano appunto è il tavolo di gioco ah scusate dimenticavo la carta che dovete pescare all'inizio non è quella del leader vabbè comunque tanto l'usata per farvi un esempio i leader li pescate in altre situazioni la carta che dovete prendere all'inizio è una carta di quelle viola che ho scritto specie che ci sono ovviamente gli umani e tutte quante le razze del gioco quindi la prima carta che dovete avere in campo non è scusate quella del leader ma quella della specie comunque sulla carta della specie vedete hanno delle abilità anche qui sempre dovete mettere i cubettini blu due blu e tre bianchi dove c'è la freccia vuol dire che una volta spesi li riprendete nel sacchetto dove non c'è vuol dire che completata questa cosa prenderò questi tre punti che mi faranno progredire sul tracciato però se dovesse andarci a levare i cubetti qua giù questa abilità non ce l'avrò più e retrocederò quindi sul punteggio finale di fine partita questa abilità di solito ti dicono pesca una carta progetto qualsiasi le carte progetto sono quelle con questo simbolo che vi ricordo essere commercio progresso ed espansione quindi questi cinque cubetti di questi vari colori pesca una carta tre cubetti gialli invece mi fanno costruire una base ok quindi come vi ho detto all'inizio faccio il tracciato che prima avevamo deciso che era no mi sembra quello bianco quindi col tracciato bianco arrivo fin qua giù arrivando fin qua giù io posso intanto conquistarli ok ah i sistemi i pianeti e le stelle si conquistano una volta soltanto e quindi questi cubetti che avete messo qua sopra non li riprendete più questa è una delle poche situazioni in cui i cubetti posizionati non li riprendete più ok perché comunque ne avete guadagnati altri però servono ad indicare che questo sistema è stato conquistato dal giocatore che ne so viola quindi non li togliete assolutamente più servono ad identificare che questo sistema è già stato conquistato da qualcuno quindi non li togliete mai questi invece col dado nero li potete riprendere in più oltre averci messo la conquista sopra posso dire va bene ci costruisco una base per costruire la base dovete prima di tutto avere tre cubetti gialli da mettere sull'abilità della vostra specie no per costruire una base una volta messi li spendete e tornano nel vostro sacchetto non nella riserva prendete una delle basi che sono diverse nelle forme e tutto ma è la stessa palla fin fine quindi scendete quella che vi piace di più e la mettete la prima nel sistema non la state mettendo sulla stella non vi preoccupate la prima la mettete nel sistema come è stato a identificare che uno dei due posti del sistema perché questo sistema ha soltanto stella più pianeta uno è stato preso poi successivamente io magari ho altri tre cubetti gialli li rimetto qui li rimuovo metto anche la seconda base sul pianeta quindi io questo pianeta qui l'ho conquistato al 100% le basi possono essere rimosse le basi possono essere rimosse però la scoperta del pianeta un po' come il nome Sky non può più essere fatta perché ormai il pianeta è già stato scoperto però durante la partita durante un'azione di battaglia potrebbero rimuovervi una delle vostre basi e magari il giocatore di colore boh non lo so rosso ce ne metterà una delle sue le basi ripeto possono essere distrutte e sabotate le scoperte no quindi la prima fase è quella di pescare l'avete vista la seconda è quella di utilizzare i cubetti e l'avete vista perché i cubetti sono quelli li mettete sempre sulle carte regola vuole che in azioni particolari tipo è il primo pianeta dove mettete una base si pescate una carta commercio e voi andate a prendere che ne so una carta commercio è il secondo pianeta di quel sistema lì che vado a conquistare ok prendete una carta progresso e voi andate a prendere una carta progresso ma tanto quello c'è tutto scritto nel manuale in questo gioco non si pesca mai dalle carte fino a che non te lo dice il gioco non c'è il pescaggio di carte da tenere in mano no 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 te lo dice ti avverte sempre il gioco quando c'è da andare a pescare e questa è la fase di spendere risorse poi arriva la fase della battaglia ma prima della fase della battaglia vi volevo fare una piccola precisazione vedete da un sistema all'altro ci sono dei colori colori che poi sono la stessa raffigurazione sul tabellone dei punteggi per vedere quale punto andrete a guadagnare quando vedete due sistemi collegati da una freccia con qualcosa un marchio al centro che è il marchio appunto del simbolo l'icona del punteggio che andrete ad alzare se ci sono due frecce che puntano verso lo stesso vuol dire che voi dovrete conquistare questo sistema e quest'altro per avere il bonus che c'è al centro se invece c'è una freccia un simbolo centrale una freccia che va da una parte e una freccia che va dall'altra vuol dire che dovrete avere uno solo dei due sistemi che ci sono quindi nel caso o questo o questo quello anche di partenza nel caso le conquistiate tutte e due questo bonus andrete a perderlo quindi anche questo vanta bellina come regola a me piace sinceramente perché cosa ci va a far capire che dovrò sì magari il prossimo che potrei andare a conquistare è questo qui ma non lo posso fare perché se no perdo questo punteggio e questa è un'altra delle regole stessa cosa questo qua giù in fondo che ci dice che o questo o quest'altro per guadagnare il punto che c'è qui questo invece ci dice che se conquisto questo quando ne vedete uno soltanto con una freccia vi dirà che basterà invece prendere soltanto quello per prendere il bonus che ce l'è ricordatevi che tutti i punteggi che sono laggiù in fondo una volta guadagnati dovete sempre andare ad arzare sul contatore dei punti contatore dei punti che ricordatevi è in costante aggiornamento perché se voi poi andrete a conquistare questi due sistemi e quindi perdete questo bonus che prima l'avevate ora no il vostro punteggio scalerà di uno e tornerà indietro quindi il punteggio alla fine matematico dei punti deve essere sempre tenuto sotto controllo per ogni turno l'ultima è la fase dei combattimenti fase dei combattimenti che sono le carte conflitto queste qui rosse che anche queste andrete a pescare in momenti particolari tipo quando conquisterete un pianeta quando andrete a scoprire un pianeta o in altri casi perché si potrebbero anche andare a attivare con l'abilità del personaggio che ti dice magari usa questa abilità e pesca una carta conflitto carta conflitto vedete che ha due lati uno rosso e uno blu sono sempre fatte così la carta conflitto si mette a metà fra due sistemi quindi che ne so fate conto che questo sistema qua giù ce l'ho messo sempre uno viola però sia un sistema conquistato da un mio nemico vi ricordo che per muoversi o conquistare i sistemi devono essere sempre collegati da rotte quindi da qui a qui non si potrebbe fare devono sempre essere collegati da una rotta che sono le caselle dove ci mettete i mattoncini e a quel punto butterò la carta conflitto ok il giocatore la usa decido io quale lato tenere decido se tenermi quello blu oppure se girarlo e usare quello rosso in questo caso qui quello blu mi chiederebbe come vedete due blu e due rossi quello in fondo mi chiederebbe due gialli e quattro rossi quindi comunque sotto chiede molte più risorse di quello di sopra però come vedete sulla carta ci sono due bonus segnati qua su in cima e cosa mi vanno a dire nel caso io scelga questo che è il più difficile e vincessi la battaglia prenderò un pianeta subito da posizionare mi dà la possibilità di selezionare e posizionare un pianeta sul settore appena conquistato sul sistema e in più pescherò una carta leader se invece decidessi di usare questo con la freccia che punta verso di me dice che io andrò a pescare soltanto un leader magari guardate anche le carte ah in più dei due chi vincerà si prenderà un punto da alzare sul tracciato e in più due cubetti di qualsiasi colore a scelta quindi va nella riserva e dice boh me ne serve uno bianco e uno blu e li va a prendere sempre stessa cosa dovete vedere i cubetti che avete in mano l'attaccante decide quale lato tenere e dice va bene tanto io sai che c'è le risorse ce l'ho ne metto due gialli quattro rossi e il vostro avversario dovrà fare lo stesso mettendo i suoi cubetti qua giù in fondo vince il primo non c'è tiro di dado in questo gioco non esistono i dadi quindi vince la battaglia il primo giocatore che mette tutti i cubetti la carta conflitto può essere messa in campo ma non è detto che vada risolta subito ragazzi è un conflitto può durare anche più turni di gioco perché non è detto che io abbia subito tutte quante le risorse da mettere però il primo dei due che completa la sequenza ha vinto la battaglia prende il reward che c'è in cima prende il punto prende le risorse che sono qua giù in fondo segnate e soprattutto nel caso facciamo conto fosse stato il rossa a vincere pescherebbe subito una carta leader che prende e si mette sulla sua parte di tavolo e in più potrebbe andare a posizionare non solo va a rimuovere la base del nemico però ne va a posizionare subito una sua quindi dice delle mie basi che ho ancora da posizionare bo ci metto la piramidina ok e quindi ho conquistato anche quel punto lì ragazzi al solito è un'infarinatura poi c'è anche le regole ci sono ogni tanto dei buchi neri come vedete che i buchi neri vengono messi o nei pianeti di partenza nei quattro elati perché se la partita è da quattro non ci sono buchi neri se la partita è da tre scegliete i punti di partenza e l'ultimo dei sistemi che non avete scelto di partenza ci mettete un buco nero che vuol dire che non può essere utilizzato più i due sistemi subito adiacenti però ci sono delle carte anche evento e cose del genere che possano essere usate dei giocatori per minare qualcun altro in cui si andranno ad aprire dei buchi neri in una zona e quando in una zona si apre un buco nero tutte quante le basi vengono distrutte e vengono rimesse nelle mani dei giocatori e tutti quanti i cubetti che erano quella zona lì vengono tolte automaticamente e ributtati nel sacchetto dei giocatori poi ovviamente ci sono altre varie regoluce non è finito qui il regolamento però per farvi un'infarinatura di partenza e per farvi capire che è tutto quanto un gioco basato sulle risorse questo è un gioco al 100% se volete usare questa abilità qui dovete avere i cubetti di questo colore quindi due blu e tre bianchi se volete usare l'abilità di questo personaggio qua giù che poi alla fin fine sono i leader leader ne potete avere quanti ne volete dovete metterne 4 neri e potete rubare la risorsa gialla a quegli altri si basa tutto sulle carte e sulle risorse il gioco ragazzi è tutto qui il primo giocatore che piazza 9 basi ha vinto il primo giocatore che conquista una base un sistema di partenza ha vinto quindi se un giocatore avversario conquista questa che è una zona di partenza ha vinto automaticamente e poi vince il primo giocatore che sul tracciato di punti arriva in uno qualsiasi a 5 quindi quando arriva a 5 avrà vinto state attenti andate sempre a minare e a sabotare in conclusione questo è Master of the Galaxy è un gioco 4x veramente molto facile e ripeto chi l'ha detto ha ragione quindi do ragione a tutti quelli che vi dicano a volte ho visto anche consigliarlo su facebook su forum che fanno lo compro è bellino Master of the Galaxy e tutti dicono sempre è una versione light di Twilight Imperium e secondo me merita veramente molto è un gioco da 2 a 4 giocatori quindi questo vabbè in solo è un gioco senza narrativa e senza PvE quindi in solo non si potrebbe fare è un gioco veramente molto interessante ragazzi e poi soprattutto è un gioco veloce che si basa tutto sul posizionamento dei cubettini risorsa quindi voi prendete cubettini con i vari colori e li andate a posizionare sulle carte tutte le carte tutte le azioni che potrete fare avranno sempre dei colori poi se non vi torna qualcosa avete sempre la schedettina repelogativa che vi dice intanto come guadagnare risorse lo vedete come prendere i vari simboli e dietro vi va a spiegare anche come vincere una partita come vi dicevo prima ad esempio la prima volta che mettete una base vedete in un settore una cosa del genere in un sistema ti dice cosa devo andare a pescare il gioco è veramente ragazzi semplicissimo ed è un gioco con finalmente pochi token l'avete visto all'inizio sono veramente pochi pochi saranno 30 token in tutto 40 se ci mette anche quelle dei buchi neri però c'è poca roba quindi si fa anche presta in tavolare si fa presta a rimettere a posto per portarlo via e anche la possibilità di perdere qualcosa è limitata perché appunto c'è poca roba come token all'interno ed è un gioco veramente divertente che questo forse portato a casa della persona giusta che non gliene frega niente di giochi spaziali o comunque di strategia 4x e cose del genere riuscirete a farlo appassionare io ad esempio prendo me come esempio non sono appassionato di questo genere di giochi questo gioco mi ci ha fatto appassionare perché è veramente veloce è bellino è immediato e ti rimane in testa che è una bellezza quindi se ne devo dare un voto assolutamente 8 e mezzo su 10 meritatissimo bellino da morire veloce spettacolare anche perché poi si c'ha pochi contenuti c'ha alla fin fine non c'ha le flotte non c'ha niente c'ha soltanto le basettine in 3D però va bene quello che c'è basta e avanza ed è molto colorato e poi ti ho apprezzato molto i disegni sulle carte sono molto bellini e davvero mi rimandano indietro a Mass Effect Wing Commander e giochi del genere quindi 8 e mezzo meritatissimo e trovate il link in descrizione per acquistarlo poi ovviamente tutti gli altri link per i nostri social e quant'altro ringrazio ancora una volta l'Ares Games per averci un'offerta una copia omaggio e grazie ragazzi veramente è un onore tra l'altro è il primo gioco che recensisco di voi è un onore iniziare questa collaborazione con voi spero che andrà avanti perché ovviamente mi fa un piacere e un orgoglio unico quindi grazie all'Ares e ragazzi assolutamente consigliatissimo prendetelo perché è un gioco che vi farà divertire e passare delle belle serate fatemi sapere cosa ne pensate ciao alla prossima